ciao a tutti ragazzi eccoci qui in questo nuovo video siamo su fifa 16 finalmente dopo un po di attesa rispetto alla data di uscita siamo qui su questa nuova serie dove andremo a utilizzare tutte le 12 squadre femminile una per volta le testeremo tutte le useremo tutte faremo delle belle partite belle speriamo belle partite le useremo in ordine di in ordine alfabetico quindi tutte e 12 partiremo dalla prima squadra della nazionale femminile ovvero l'australia 75 77 75 che selezioniamo immediatamente qui c'è già andato a mettere come avversario già le altre donne quindi torna ragazzi il nostro generatore di numeri casuali e su questo quaderno sempre il solito quaderno ho scritto tutte le altre due le altre le altre nazionali sono scritte tutte e 12 e sono numerati in base sempre all'ultima quindi noi metteremo numeri casuali tra 2 e 12 visto che alla fine la prima è l'australia e alla fine non possiamo affrontare l'australia generiamo e c'è uscito il numero 12 quindi andiamo ad affrontare la svezia eccola qui la svezia 79 77 75 noi abbiamo quattro stelle mentre la svezia quattro stelle e mezzo selezioniamo ora ci scegliamo le nostre belle divisine australia blu gialla io direi ma si già le verde contro la svezia che deve andare per forza blu ok ragazzi come sempre ovviamente difficoltà facciamo difficoltà facciamo esperto dato che stiamo iniziando adesso tempo però 5 minuti altrimenti ci mettiamo 20 anni andiamo avanti così faccio la formazione ci vediamo in campo eccoci qui ragazzi in campo ho fatto ovviamente sempre la mia classica formazione ho fatto sempre la mia classica formazione 4 pedri offensivo con adesso andremo a fare offensivo al pressing alto come mio solido come mia tattica io ragazzi questa qua manco a giocare con 5 punte e li usavi tutti gli attaccanti questa sola attaccante impressionante infatti ho dovuto mettere una alla destra come il tessino destro ora so speriamo che offensiva pressing alto ovviamente pressing alto e si inizia ragazzi la prima partita di cifra 16 cioè sì la prima partita con il gioco completo di cifra 16 dopo la demo oh eccolo qui subito abbiamo la palla dai 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 iniziamo immediatamente a prestare dai 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 eh ragazzi le difese sono molto migliorate in cifra 16 eh ci ho fatto molto caso io giocando eh ragazzi la difesa adesso è un po' più intelligente rispetto a sifra 15 intercettano palla molto più aggressivamente anche a basse difficoltà ci ho fatto caso giocando a dilettante ho iniziato ho fatto qualche partita anche a dilettante per provare e ragazzi rispetto al primo che dilettante andavi da solo qui ragazzi ti aggrediscono e ti levano palla come se stassi giocando al esperto a sifra 15 è impressionante ragazzi la difficoltà è molto aumentata dai che è buona metti in mezzo e non ci sta nessuno orco giuda eh lo sapevo io lo sapevo eh vabbè ragazzi eh cioè dobbiamo prendere l'abitudine in FIFA 16 a forse di giocare assurdo cioè raga assurdo a parte che a bella ci stava nessuno perché stava lo so non lo so però vabbè 15 minuti ragazzi siamo sotto 2 a 0 non sarà facile recuperare però ci proveremo almeno proviamoci dai questo è due diri e due gol impressionante assurdo assurdo vai 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 e non c'era nessuno vai vai andiamo andiamo col contropiede c'è una parola anzi vai 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 andiamo andiamo sti a cercare la vittoria Prova il tiro Dai E' stato il ritmo Ma come cazzo ti chiamo Va benissimo La numero 10 Porta in parere Siamo 2-1 L'ha vinta Dai Va bene Va bene Va bene Vabbè dai ma non mi seleziona quello che volevo Porco 2 Non mi da selezionato quello che volevo Non mi da selezionato quello che volevo Non mi da selezionato Non mi da via Dai 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 C'è i centrali Tutte centrali Tiriamo qui Sì sì A parte che vabbè E' vero Sto gioco attaccanti in difesa Perché questi non c'hanno terzini Non c'hanno Bello E' finito E vabbè ragazzi Ci sta Come prima partita Con il calcio femminile Eh sì E' diverso il modo di gioco Anche da maschie Da uomini e donne C'è da dire Perché I movimenti sono un po' diversi A fine C'è Uomo e donna Movimenti diversi Quindi C'è un po' da capire il tutto Però Vabbè Che devi fare E' successo Abbiamo perso Si perde Si vince Ma aspettavo in realtà Speravo in meglio Però Anche la formazione Non era delle migliori Con Attaccanti a fai terzini Ale a fai terzini Perché non c'hanno i terzini Cioè O c'è Perché se non Sapevo chi metterci E quindi Vabbè Ragazzi Io resto Mi registro Un'altra partitella Ci vediamo noi A un prossimo video Lasciate un like Un commento Iscrivete Se non l'avete ancora fatto Ciao a tutti ragazzi Forza 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 Acceleriamo Acceleriamo A tavoletta Questo è un punto A noi veloce Dobbiamo recuperare Assolutamente Gonzales Che aveva preso Un sacco di vantaggio Non sarà facile Ma noi ci proveremo Fino Fino All'ultima curva Fino all'ultimo metro A disposizione Primo del traguardo Per andare a superare Gonzales E Qui abbiamo allargato Molto Ma va bene così Ragazzi Non fa niente Dobbiamo recuperarlo Ragazzi Adesso